Un uomo esemplare nell'insegnamento, nella formazione delle nuove generazioni, specialmente dei sacerdoti e nella ricerca teologica. È il ricordo tracciato da Papa Francesco in un telegramma del cardinale gesuita Carl Josef Becker, spentosi lo scorso 10 febbraio all'età di 86 anni. La messa esequiale è stata celebrata nella Basilica Vaticana dal cardinale decano Angelo Sodano, mentre il pontefice ha preseduto il rito dell'ultima commendazio e della valedizio. Nell'omelia il decano del collegio cardinalizio ha ricordato il defunto come una grande figura di maestro di sapienza cristiana che ricorda a tutti l'importanza di tenere le nostre lampade sempre accese per poter accogliere il Signore quando venga a chiamarci.